Bene, nuova parte di XD, ora andiamo alla radice del problema Sembra che i cattivi siano nascosti qua dentro Nel Colosseo di Diamantopoli Ah, salvo un attimo che ho fatto un sacco di progressi Pokémon Ombra 24, purificati 19 Vabbè, quelli non ancora purificati sono quelli che ho catturato adesso Qui ce ne sono un bordello di Pokémon Ombra Ovviamente non sto a registrare, ragazzi, avete capito il perché Eh, sempre il monitor riserve Oh, eccoli i cattivi Allora, prima di cominciare però Rimettiamo un po' i sesti di Pokémon perché mi sono dimenticato di andare dal vecchietto Ah già è vero, Ralz si è evoluto in Kirlia Mi ero messo Ralz in squadra, l'ho purificato, eccetera Si è evoluto in Kirlia Però è un po' debolino, eh Eh, mi sa che finché non evolvi in Gardevoir Non è più forte Vabbè Ok Ma quale libertà di stampa, bella Qua deve funzionare tutto come Italia Ma non è capito, noi sulla televisione non dobbiamo far vedere la verità Dobbiamo far vedere la vita privata di Gip Di cui ne frega tutta La gente non diventerà un cazzo la verità Oh, cazzo, si è accorto di me Egidio, stavi dormendo? Arpacone E' il grandissimo Avete capito tutti, eh Eh, te la doio la ricreazione, va Bestiale un tutta, ragazzi Perché sembra che abbia una zappa In realtà ne ha due di due Poi è così veloce a tirarne fuori una E a tirarne fuori una E da dentro l'altra E' impossibile verla Amico Egidio Ti sono facendo il culo Seale Ottimo E ora ti catturo Ah, io ho finito tutte le mega Vabbè Eh, povera Kirlia Ti fanno sempre il culo, eh Pokeball Poi Anticleptop Sì 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 Preso, si è catturato No, io ho voluto la meno su Egidio Crimson soldato Ops, ho colpito il microfono Cazzo Ah, no Ma meno male che tu non ti lanci all'indietro quella capriola Tu li metti così Ah, fai Mannaggia Bene mio caro Politico Arpagone Facciamo le chiappe adesso Ti chiami Cameron Cameron Fai il cameraman E ti chiami Cameron Oh mio dio Fammi nominare James Fai di nome Fatti sotto Merdaccia Parte la sede di Arpagone Criptenente Questo mi va bene come Criptenente Avanti Kirlia E Ursa Cominciamo Allora Kirlia Vediamo Un bello Un da shock No, forse Meglio usare Cazzo Meglio cominciare a aumentare la difesa Perché sono forti E noi Un bel ritorno flancor Perché mi preoccupo Per il tipo elettrico Sì Perfetto Ora sì che sono guai C'è un Pokémon Ombra Tiene in squadra Perfetto Vai Kirlia Sì Ora dobbiamo Abbattere Quel Quetz Meno male che ho aumentato la difesa Da giù E' scala velocità Ma porca la mia lingua Ok Meglio cambiare Chirio me lo ammazzo Vediamo Sì dai Ursa Ring Un bel ritorno su Quagsire Ma andrò fuori dalle mani Forza va fuori dalle mani Ritorno Ciao Quagsire Cazzo No Cielo oscuro No 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 Accidenti Vi spiego ragazzi Cielo oscuro E' una mossa Simile a Grand O Terrenpestal E colpisce a turno I Pokémon Ma Soltanto i Pokémon Tornuti Quelli Ombra Non gli fa nulla Porco Madonna Mamma mia Indevolito Pi di così Non puoi Ti catturo E Sono Guaglio Caro Di soltanto i Pokémon I Ombra Di soltanto i Pokémon Controller cazzo, merda, dai controller non mi mollare, dai resisti, bravo, bravo, dai, bravo, 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 ok, ora pensiamo a catturare Elu Merda, oh merda Occhio, arriva l'onda A proposito ragazzi, per rompere un po' il ghiaccio vi racconto questa battaglietta un po' più l'onda Sentite questa E adesso vediamo chi fa, no, ce la racconto adesso Che cosa fanno ragazzi, una Mitsubishi, una Toyota e una Tsubishi sulla spiaggia? Aspettano l'onda Allora, battute di merda a parte, vediamo di prendere Proviamo la Elu Una serie di poco Mentre con me, Tang Proviamo un ricordo, vediamo cosa fare Lunaton 6-0 Siiii Siii Preso, Lunaton l'ha catturato Ah, è resistito lo stronzo Thunder Punch Bravo che non l'hai tirato contro Vaporeon Adesso c'è neanche paracchissi Vaporeon Meno male, va, se non ce lo stronzo, non vince più Eh, dura un sacco, eh, ce lo stronzo Ma io ho una teoria qui, secondo me Ce lo stronzo Dura A seconda di quanti Pokémon ombra in ogni squadra Forse dura normalmente 5 turni E i 5 turni qua sono Già tipo Sì Oh, madonna Pensavo cadessi Si è spaventato Ma come corre? Tutto bene? Ma tu come cazzo fai a correre con una bomba del genere? Piacere Layla Si mi hanno raccontato tutto Megan e Ned Sono qui apposta per salvarvi Oh ho registrato il mio incontro Oh mio dio Andrò in televisione Che bello Che felicità Che gioia C'è qualcosa per terra Vediamo un po' Ho capito Si si è purificato Ah la chiave ascensore Perfetto così posso liberare quelli L'inchiusi Oh Si ma che figata che camminiamo dentro l'arena di Diamantopoli Cioè non è che magari c'è qualcos'altro Anche all'altro estremo Infatti L'MT13 Geloraggio Perfetto Pietra idrica Uh Dove cacchio esco adesso? Dov'è l'uscita? Merda Oh meno male Siamo fuori Forza Oh madonna Disco polenazione da qualche parte Ok Ah già la chiave la dovrei inserire nel centro Si Nel centro comandi Dai forza Ci sarà un interru- Oh Una serratura dove ficcare la chiave Perfetto Nooo Ma che cazzo sto andando Ma che mi prende? Nooo Ma che cazzo sto andando Ci sarà tutto bene Si Ma si figuri per così poco Si Bella sta canzone Musica Ah che bello macchione che è il sindaco Ah Che bello macchione che è il sindaco Che bello macchione che è il sindaco Perfetto Allora andiamo Che succede? Oh madonna Mi ricorda qualcosa Come si No Non No 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 Grazie a tutti.